amici solo per gli abbonati questo file setting di questa animazione vi volevo segnalare una cosa questa è la programmazione che ho fatto per fare questa animazione in realtà questa è la t sotto ecco e questa è la vera programmazione vedete non ci sono tanti nodi per creare questo font tecnologia che ha delle squadrature all'interno molto simpatiche quando caricate e trascinate il file setting nell'area nodi fate attenzione a una cosa io avrò utilizzato dei font che magari voi non avete in questo caso non vi compare nulla quindi quando caricate le mie animazioni se contengono testo andate subito a verificare il font e provate a cambiarlo come vedete in questo caso dovete cambiare questo e anche questo che siano uguali quindi se mettete che ne so oliver barney qui dovete mettere lo stesso font anche qui vi insegno questa cosa che io non ho fatto per tenere separati i due testi magari tra i colori diversi ma se voi volete cambiare un solo font e averlo automaticamente anche sull'altro nodo fate così andate qui copiate questo font venite qui e fate incolla istanza past istanza vedete che sono legati unite qui cosa succede quando io cambio un font di uno automaticamente vedete che cambia anche l'altro ecco magari vi darò le due versioni tecnologia 1 tecnologia 2 così avrete questo singolo ovviamente il bello di questo font quello di avere un font grosso ecco tipo questi qui dove come vedete si può vedere bene all'interno il discorso dell'animazione della squadrettatura perché è il bello di questa animazione quindi potrete creare così delle delle animazioni dei titoli particolari ovviamente potete variare i colori all'interno dei nodi e ovviamente vi ricordo che con lo stesso sistema potrete creare anche dei background ad esempio mettendo un background lo andate a agganciare a entrambi e qua potete mettere ad esempio una forma e ecco qua ho ottenuto un cerchio con il mio effetto all'interno ciao e alla prossima ciao ciao ciao